L'occasione di oggi è particolare perché come sapete qui a pochi passi da noi c'è l'inaugurazione del nuovo, chiamiamolo così, a me piace chiamiamolo così, Museo di Andretassio, giusto? Il grande Gianni che da un po' di tempo ci manca e oggi in qualche maniera è vicino a noi e da qualche parte sicuramente ci starà guardando. Un grande applauso per quello che è stato e per quello che è ancora. Noi usiamo la nostra rassegna, suoneremo per un'oretta, con un brano che è proprio ad hoc, noi siamo qua nei vicoli e cioè nella città vecchia. Noi usiamo la nostra rassegna, suoneremo per un'oretta, con un brano che è stato e per un'oretta, con un brano che è stato e per un'oretta. Noi usiamo la nostra rassegna, suoneremo per un'oretta, con un brano che è stato e per un'oretta, con un brano che è stato e per un'oretta. Noi usiamo la nostra rassegna, suoneremo per un'oretta, con un brano che è stato e per un'oretta. Noi usiamo la nostra rassegna, con un brano che è stato e per un'oretta. Noi usiamo la nostra rassegna, con un brano che è stato e per un'oretta. Noi usiamo la nostra rassegna, a fondo fuori e nel pretty-sea che la volca qui! 10.000 lire per sentirti di vincerelle da un po' gioco. Se ti non treai un coliccato e dei bambini voli, in quell'aria spessa carica di sale con figlia di un odore, lì ci troverai i ladri di assassini dimostreranno quello che ha avvenuto per dare millie, sua madre è una un'unica no. Se tu penserai e giudicherai da un uomo in torresi, gli condangerai 5.000 anni pieni a spesa, ma se capirai, se ne cercherai, il figlio di un morto, se è un soggy, sono per sempre qui, e qui questo mondo.